carissimi ragazzi e ragazze in ascolto bentornati in diretta da radio buon consiglio per una nuova puntata di spazio giovane condotta come sempre da don leonardo maria pompei stiamo siamo giunti alla trentacinquesima puntata del ciclo di catechesi dedicate al dono della divina volontà ecco questa questo tentativo diciamo così di presentazione globale e sistematica della vita nella divina volontà come presentata da gesù alla serva di dio luisa piccarreta ecco dopo averla ampiamente rivelata nella sacra scrittura nell'antico nuovo testamento e come dire portata avanti in duemila anni di vita della chiesa quindi ricordiamo sempre questo è sempre importante a mio avviso ogni tanto ricordarlo che gli scritti di luisa non sono anche non sono altro che una esplicitazione una focalizzazione di quanto già ampiamente contenuto nella liberazione ecco semplicemente da come dire tirare fuori quindi e che ci porta diciamo dentro la come dire la più profonda diciamo così genuina e solida ecco se vogliamo proprio dire un termine dottrina di santità e santificazione che la chiesa sempre insegnato insomma fondata come sappiamo sul padre nostro e su tutto il mistero liberato dalla creazione fino alla redenzione fino poi alla missione all'opera della chiesa i sacramenti tutto ecco quindi con delle punte ecco meravigliose perché questi scritti e ciò che gesù ha detto a questa serva di dio servono proprio a portarci fino al massimo grado di non è possibile che si possa avere che si possa raggiungere in questa vita con il divino volere e quindi ringraziamo di nuovo il signore per questo grande dono e consapevoli di questo proseguiamo la nostra rassegna adesso qui siamo andremo avanti ancora qualche puntata e ovviamente poi ci metteremo un punto perché come dire i brai del divino volere significativi sono tantissimi sono quindi ne ho scelto qualcuno sicuramente saranno neanche necessariamente i migliori quindi è come dire una presentazione molto riduttiva e molto esemplificativa gli scritti vanno letti e per chi vuole entrare in questo mondo vanno letti e meditati con estrema attenzione soprattutto messi in pratica ripeto sempre a cominciare dai primi volumi in poi perché i primi volumi rappresentano le basi ordinari e imprescindibili di chiunque voglia entrare fino in fondo in questo regno non so se la settimana scorsa in questa puntata o in qualche altro intervento ho avuto modo insomma di puntualizzare insomma che gli iscritti sembrano veramente un itinerario un cammino ecco di fede o se uno preferisce un paragone un po' più un po' più spicciolo sembrano un cursus di studi che parte dalla scuola elementare e finisce col dottorato ecco quindi non si può andare agli ultimi quattro volumi senza aver ben assimilato e messo in pratica quanto si dice nei primi no io questo lo vedo nelle meditazioni quotidiane insomma che poi per grazia di dio riesco a condividere anche con coloro a cui interessano e che fanno seduto a me che sono meditazioni appunto che riguardano una vita ascetica e di santificazione come dice buona per tutti d'accordo quindi perché l'edificio ripeto del divin volere si costruisce sulle fondamenta di tutta la tradizione ascetica cristiana che c'è stata in 2000 anni di storia quindi si può come dire innalzare questo edificio che rende il divino volere ancora più smagliante ancora più risplendente ancora più proficuo solo a condizione che lo si pianti sulle sue solide fondamenta quello che dico sempre nessuno pensi che la divina volontà è una sorta di facile scorciatoio addirittura di magia accorto proprio la meditazione di questa mattina diceva queste parole bellissimo no gesù spiegava luisa alcuni concetti e poi faceva riferimento ad alcune frasi proprio espresse dell'atto preventivo bellissime le cose che dicevano davvero davvero impressionanti no perché perché faceva capire come se tu non impari a non riconoscere più te stesso a non ricordarti più di te stesso ma soltanto di gesù se non ti dimentichi di te stesso se non rinneghi te stesso e se non ti uniformi al divino volere gesù non verrà nel tuo parlare la divina volontà non verrà nel tuo guardare è possibile d'accordo ecco quindi è importante tenere sempre presente tutte queste cose detto questo veniamo alle letture di oggi che cominciano da un brano del volume sedicesimo e molto molto belle queste praticamente adesso parla questo brano della bellezza e della grandezza del fiat divino cioè cosa il signore ha in mente di fare attraverso la diffusione di queste conoscenze particolareggiate e precise sul fiat e attraverso quelli che poi conoscendole le comprenderanno le accoglieranno le ameranno le vivranno e le metteranno in pratica sentiremo parlare di grazie nuove luce sfolgorante addirittura portenti inauditi e mai visti portenti inauditi e mai visti cedo subito la parola come sempre in tutti gli iscritti di luisa bisogna avere pazienza che c'è un ampio prologo ecco circostanziato dalle situazioni in cui riceve queste queste parole da parte di gesù e poi arriveremo al clou come sempre poi vedremo o lo leggo tutto e poi lo commento oppure mi fermo di quando in quando insomma a sottolineare qualche punto vediamo un pochino che cosa preferisce e dove ci porta un po al divino volere volume sedicesimo 24 maggio 1924 mi sentivo amareggiata al sommo per la privazione del mio dolce gesù ecco il triste dubbio che tutto ciò che gesù mi ha detto io operato nell'anima mia non sia stato altro che una mia illusione un giochetto del nemico infernale e dicevo tra me sentite questo sta dicendo una cosa che prima di lei disse molti secoli prima santo maso d'aquino fortuna che la divina volontà ha messo la mano a testa l'uno e all'altro e non gliela ha fatta fare questa cosa dice così luisa se mi venisse dato tutti gli iscritti stessero nelle mie mani di mio potere o come volentieri li brucierei tutti mai me non sono più in potere mio sono in mani altrui e se ciò volessi non mi viene dato a gesù salvo almeno la povera anima mia non mi lasci perire e già che il tutto è finito le relazioni trammette non permettere che io abbia la più grande delle sventure di non fare minimamente la santissima adorabile volontà quindi andiamo accendere qualche cero ecco che la dina volontà gli ha tolto gli iscritti se no capace che luisa dava di matto e li appicciava come dicono a napoli noi oggi staremo a fare un'altra puntata e ci saremmo persi tutto sto patrimonio quindi meno male che dio vede provvede come si dice nel nostro parlare comune allora ora mentre ciò pensavo il mio adorabile gesù si è mosso nel mio interno alla sua amabile presenza le tenebre sono fuggite i dubbi sono scomparsi ed è ritornata in me la luce e la pace ed il mio dolce gesù mi ha detto figlia della mia volontà perché dubiti del mio operato in te e poi dubitare della mia volontà e di ciò che ti ho detto sul mio figlia volete supremo è la cosa più assurda che può darsi proseguo e poi facciamo il primo pit stop credo è la dottrina della mia volontà è più che acqua cristallina presa dalla limpida fonte della mia divinità più che sole sfolgorante che illumina e riscalda è specchio terzissimo che chiunque avrà il gran bene di potersi rimirare in questa dottrina celeste divina resterà scosso e sentire insieme tutta la buona volontà di purificarsi delle sue macchie per poter bere a larghi sorsi di questa dottrina celeste così restare abbellito dai freggi divini non so se siete d'accordo ma penso che qui bisogna fare assolutamente il primo pit stop per anche per respirare no allora Gesù dice anzitutto dubitare della mia volontà e di ciò che ti ho detto sul mio volere supremo è la cosa più assurda che possa farsi questo perché se vogliamo essere precisi facciamo vinta che lui se non avesse mai scritto niente d'accordo niente la volontà divina la divina volontà è assolutamente quanto di più santo quanto di più nobile quanto di più perfetto quanto di più bello possa in assoluto esistere perché la divina volontà questo sta già nella rivelazione noi la vediamo dappertutto d'accordo tutto quello che noi vediamo di bello di buono di vero è tutto atto della divina volontà la cui perfezione assoluta perché la divina volontà è perfezione assoluta e le opere che fa tutti quanti sanno in tutto l'antico testamento le sue opere sono santità e grazia stabili sono tutti i suoi comandi immutabili nei secoli perfetti tutta la sacra scrittura è un inno di lode continuo ai prodigi dell'operato divino e dio opera semplicemente attraverso la sua volontà a dio basta volere una cosa perché quella cosa sia fatta e a dio basta non volere una cosa perché quella cosa non sia fatta vi faccio un esempio io questo lo sto sperimentando anche nella mia vita personale no immaginate no allora noi sappiamo tutti quanti adesso siamo nel tempo di guaresima no la passione di gesù quando è che è avvenuta è avvenuta esattamente nel momento in cui la divina volontà stabilito che fosse giunta l'ora della redenzione e allora ha smesso questa è la dinamica di proteggere gesù da tutte le insidie feroci che gli giravano intorno e ha lasciato che il diavolo con tutti i suoi collaboratori si scatenassero e si sprenassero noi abbiamo la dimostrazione di questo da cosa da delle liberazioni private no dai vangeli nel vangelo di san giovanni quante volte ci si vede che cercano di prendere gesù e san giovanni nessuno poteva mettergli le mani addosso perché non era ancora giunta la sua vorrei ci ho fatto delle catechesi stanno online perché ci sono salvati sicuramente stanno i podcast in giro no vangelo di san giovanni è tutto quanto impostato intorno a questo tema l'ora di gesù fino a quando non è arrivata quella sera del giovedì santo a mezzanotte quando sono andate le guardie a prenderlo nessuno poteva toccarlo e se anche qualcuno ci ha voluto provare vediamo già da quando era piccolo con erode con la strage degli innocenti cosa ha fatto la divina volontà non gliel'ha impedito ma ha messo la sacra famiglia in condizione di difendersi gliel'ha liberato e questi sono scappati capite perché gesù doveva compiere un'opera sulla terra d'accordo doveva compiere un'opera sulla terra e fino a quando quell'opera non fosse stata compiuta nessuno lo poteva toccare arrivata l'ora della passione l'unico che in teoria avrebbe potuto sottrarsi alla passione sarebbe stato gesù se la sua volontà umana non fosse stata fusa con quella divina l'unico ma se gesù era d'accordo offrendosi liberamente alla sua passione sarebbe successo e la prova che era tutto sotto controllo ancora il vangelo di san giovanni appena vanno a trovare gesù questo lo troviamo anche nell'ora della passione c'è chi cercate sono io tutti per terra la seconda volta che cercate sono io senza far fuori uscire da questo sono io l'impero divino quindi il volere divino e lo catturano punto quindi la divina volontà in se stessa dubitare cioè in qualunque forma e qualunque modo di questo è pazzia allo stato puro d'accordo io sto parlando adesso d'accordo perché la divina volontà mi fa parlare e arrivare al mio parlare da adesso sa quante note che bisogna fare della divina volontà il dono della vita la crescita il fatto che mi mantiene nell'essere il fatto che adesso sto in buona salute che le corde vocali ancora funzionano che l'intelletto forse in qualche modo connette poi speriamo che connetta bene eccetera eccetera sono tutti quanti atti d'accordo tutti quanti atti originati dal volere divino in lui ci muoviamo ed esistiamo scrive san paolo capite punto ecco quindi vedete come io cerco sempre non sono il solo anche altri più illustri testimoni di me di involere compiono un'opera lodevolissima nel mostrare come non c'è neanche una virgola di questi scritti che non sia radicata nella sacra scrittura e nella rivelazione non potrebbe essere altro che questo perché questa dottrina veramente divina appunto perché la divina volontà è la vita di dio d'accordo ecco ancora la dottrina della mia volontà è più che acqua cristallina presa dalla limpida fonte della mia divinità bellissimo queste immagini acqua cristallina cioè voi sapete no acqua cristallina sapete per esempio la bellezza per esempio della della chiesa cattolica della dottrina cattolica perché la dottrina cattolica è da amare più di ogni altra non perché noi siamo più bravi perché siamo più belli perché siamo più santi anzi a volte non lo siamo ma perché la dottrina autentica cattolica ha la garanzia dallo spirito santo di essere vera senza commistione di errori il bene e il vero esistono anche al di fuori dei confini della chiesa cattolica come del resto la chiesa ben insegna nei documenti del magistero però insieme a delle cose vere esistono delle cose meno vere esistono delle verità ma non complete esistono delle cose buone ma non perfette allora la divina volontà è più che acqua cristallina cioè più perfezione bellezza e purezza di questa dottrina non c'è perché vai nella vita stessa di dio e della santissima trinità che ha una sola volontà questo non dimentichiamolo mai è il fiat supremo un atto unico eterno delle tre persone questa è la divina volontà ancora più che sole sfolgorante che illumina e riscalda cosa significa due attributi della divina volontà quello di dare la luce quindi quello che tu alla luce di questa dottrina impari tantissime cose sono le famose conoscenze sulla divina volontà e ti riscalda cioè ripeto l'esperienza più bella che si fa entrando a contatto con il divino volere è il diretto entrare in contatto con il mistero di dio amore che lo si comincia a vivere a percepire come tale perché la divina volontà non è altro che amore purissimo allo stato puro ancora è specchio terzissimo che chiunque avrà il gran bene di potersi rimirare in questa dottrina celeste divina qui sembra di sentire le parole l'eco delle parole delle lettere di santa chiara alla beata agnese di praga quando dice specchiati nell'umanità santissima di gesù no specchiamoci anche nella divina volontà guarda la specchiettinesse che cosa succede quando quando ti specchi c'hai delle reazioni no quali sono le reazioni quando tu vedi una cosa così bella così santa così potente così pura dice gesù resterai scosso scosso dici mamma mia quanto siamo lontani da questo mondo e sentirà in te tutta la buona volontà di purificarti da ogni macchia per poter bere a larghi sorsi di questa dottrina celeste per lì cioè quando uno entra bene in contatto con questo mondo non capisce più niente non capisce più niente in senso in senso in senso buono no cioè non pensa più a niente perché l'interesse il desiderio di viverci è immenso e non può essere altro che così perché se tu la volontà di dio la intercetti la contatti la incroci non ti puoi non innamorare è impossibile perché non non c'è è impossibile non innamorare non non innamorarsi del sommo bene del sommo bello impossibile tutti quelli che non che non gli parte come che non che non che non gli parte la brocca diceva una volta roma non vorrei usare queste 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 espressioni con questo però insomma ecco che che non partono è perché non sono entrati bene in contatto con non hanno capito cioè non si rendono conto del tesoro e del patrimonio che hanno dinanzi proseguo la lettura e quando ci si avvicina si rimane belli dei freggi divini ma chi è che non vorrebbe chi è che non vorrebbe essere abbedito dei freggi divini e condurre anche questo mondo una vita divina o la vita è una divina volontà gesù sa delle espressioni vivere il mio volere è operare da dio io lo capisco che ma anche questo cioè san paolo si è sgorato nel nuovo testamento a dire che noi attraverso il battesimo diveniamo dio per partecipazione non è uno scherzo non è un modo di dire d'accordo perché diveniamo partecipi della natura divina attraverso la grazia la divina volontà non è altro che un come dire un portare a perfetto compimento il processo di divinizzazione dell'uomo molto sottolineato per esempio nella chiesa orientale che è fondato nel battesimo però non è una cosa strano astrusa cioè non è uno scherzo c'è un'autocomunicazione divina si dice così tecnicamente in teologia che veramente trasmessi sacramenti servono a questo è i sacramenti sono autocomunicazione divina di grazia addirittura nell'eucaristia c'è un'autocomunicazione divina di Gesù di se stesso di ciò che lui è oltre di ciò che lui ha e di ciò che lui ha fatto proseguo la lettura tu devi sapere la causa il perché la sapienza e l'onnipotenza divina volle pronunziare il fiat nella creazione attenzione ha pronunciato un fiat fiat lux ricordiamo sempre c'è un po di ripasso i tre fiat fiat lux fiat michi e fiat voluntas tua sicut in cielo e in terra creante redimente e santificante allora poteva creare tutte le cose senza dire parola ma siccome volle che la sua volontà leggiasse su tutte le cose e ricevessero la virtù i beni che contiene che contiene la divina volontà pronunziò il fiat e mentre lo pronunciava bellissima comunicava i prodigi del suo volere affinché tutte le cose avessero per vita per regime per esempio e per maestro la mia volontà attenzione questo è questo che abbiamo ascoltato non è più valido purtroppo per gli unici posso dire una brutta parola per gli unici imbecilli del pianeta terra che siamo noi uomini i folli scriteriati i malati di mente che abbiamo avuto la pazzia di uscire di andarsi lontano dalla divina volontà ma per il resto ancora vero capite quindi il sole ha per vita per regime per esempio per maestro la divina volontà i venti la stessa cosa le nuvole la stessa cosa le piante la stessa cosa gli animali la stessa cosa gli fiori la stessa cosa gli oceani la stessa cosa i fiumi i laghi la terra eccetera granché figlia mia la prima parola del tuo dio che risuonò sulla volta dei cieli fu il fiat ne disse altro capite perché questa parola fiat di cui tante volte noi insomma è un po come dire il simbolo no della vita nella divina volontà la vita nella divina volontà si esprime con fiat no vuol dire sia fatto perché fiat è la parola che caratterizza tutti e tre appunto i fiat creante redimente e santificante quindi le tre grandi manifestazioni della divina volontà fuori di sé ecco però questa è roba grossa granché figlia mia la prima parola del tuo dio che risuonò sulla volta dei cieli fu il fiat ne disse altro e che significava significava che il tutto stava nel fiat manifestazione fiat significa manifestazione operante ed efficace della divina volontà fuori di sé letteralmente fiat significa sia fatto col fiat creavo tutto adesso cominciano le affermazioni assolute apodittiche di gesù costituivo tutto ordinavo tutto racchiudevo tutto legavo tutti i suoi beni a pro di tutti quelli che non sarebbero usciti dal suo eterno fiat e quando dopo aver creato tutto attenzione vogli creare l'uomo non feci altro che ripetere il fiat come impastandolo con la mia stessa volontà e poi soggiunsi facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza attenzione qui alla spiegazione che da gesù è in virtù del nostro volere manterrà in sé integra la nostra somiglianza e conserverà bella intatta la nostra immagine che succede col peccato originale l'uomo perde la somiglianza con dio e deturpa l'immagine noi non siamo più belli né interiormente né esteriormente così come dio ci avrebbe voluti questa è la dottrina della santa madre chiesa la somiglianza con dio è stata persa nel peccato originale e l'immagine ne rimane deturpata non distrutta come volevano i luterani ma deturpata sì ecco e il battesimo ci ritorna la grazia che è il ripristino della possibilità di ritrovare la somiglianza con dio attraverso l'uso della grazia e quindi un cammino di santità che ci riporti piano piano attraverso l'esercizio delle virtù ad essere un po meno mostri ecco un po più somiglianti alla bellezza divina che abbiamo perso questo è quello che insegna la chiesa vedi dunque che la sapienza increata continua a leggere come se non sapesse dire altro che fiat volle pronunziarlo tanto era necessaria a tutti questa lezione così sublime e questo fiat aleggia tuttora su tutto il creato e dobbiamo imparare a vederli facciamo un ripasso i giri nel fiat creante come conservatore delle stesse mie opere e come in atto di scendere sulla terra per investire l'uomo per racchiuderlo un'altra volta in esso affinché da donde usci cioè essendo uscito dal mio volere nel mio stesso volere ritorni perché è mia volontà che tutte le cose da me create ritornino sulla stessa via da dove uscirono affinché mi ritornino belle decorose e portate come in trionfo dalla mia stessa volontà ok quindi gesù sta dicendo che questo fiat tuttora leggiante su tutto il creato ma perso dall'uomo deve essere da lui rifatto proprio e diventare il mezzo attraverso cui si ritorni al volere di dio da cui l'uomo è uscito col peccato originale e esce in continuazione sia col peccato attuale mortale o veniale sia tutte le volte in cui anche fuori delle cose che sono strettamente peccato non si uniforma in tutto al divino volere proseguiamo onde adesso arriviamo al clou di questo scritto di tutto ciò che ti ho detto sulla mia volontà questo è stato il mio scopo che la mia volontà sia conosciuta e che venga a regnare sulla terra attenzione adesso a questa parola che è una bomba di gesù 3 2 1 e ciò che ho detto sarà promessa gesù qui fa una promessa il mio scopo è che la mia volontà sia conosciuta e che venga a regnare sulla terra e ciò che ho detto sarà quindi che la divina volontà regnerà sulla terra non sappiamo come non sappiamo quando non sappiamo dove non sappiamo non sappiamo i dettagli ma è promessa di gesù e attenzione che gesù le promesse che fare mantiene noi non sappiamo ripeto né quando né come gesù ha promesso fin da tempi da abramo che avrebbe mandato il salvatore sono passati da abramo in poi duemila anni capite pensate che il popolo di israele che non crede che gesù cristo è il figlio di dio ancora sta aspettando il messia e sono aspettati e sono passati secondo loro quattromila quindi nella mente dei nostri fratelli del popolo ebraico c'è tranquillamente la possibilità che la promessa di nostro signore per realizzarsi ci metta quattromila anni anziché due capite ah ma certamente si realizzerà eh cioè questo cioè quando noi diciamo nel fede nel credo aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà voglio ben sperare che non ci sia nessuno che non ci crede eh perché questi nostri corpi ecco che il giorno delle ceneri la chiesa ci ha ricordato che torneranno cenere prima formula di imposizione delle cenere oppure se vuoi fare in modo che questa cenere un giorno ridiventi gloriosa ecco occorre anzitutto salvare l'anima e poi salvare anche il corpo quindi converti i decreti al Vangelo ma comunque cambiando l'ordine dei fattori il risultato non cambia d'accordo questo corpo andrà comunque a finire sotto un metro di terra d'accordo ecco ma spero che nessuno dubiti che questo corpo risorgerà cioè abbiamo forse visto io l'ho visti sono un prete quindi morire un sacco di gente anche persone molto care le ho portate al cimitero con gli occhi le ho benedette io le tombe ma io non ho nessunissimo dubbio che quei corpi ritorneranno in vita perché? perché Gesù c'era promesso finito quando c'è la risurrezione dei morti? tra 100 miliardi di anni ma può essere pure può essere pure 100 miliardi di mila di anni ma quella cosa succederà i tempi credo che saranno un pochino più ragionevoli insomma ma quella cosa succederà la Madonna detta a Fatima alla fine il mio cuore immacolato trionferà ma questa non è una promessa biblica di rivelazione pubblica però è un'apparizione riconosciuta se chi ha parlato a Fatima era la Madonna e ha detto questa cosa il suo cuore immacolato trionferà punto e basta e inanzi a tanta tribolazione a tanta sofferenza e a tante cose brutte che vediamo oggi in giro d'accordo? l'ho detto tante volte nel mondo e qualche volta pure nella Chiesa non dobbiamo dubitare mai delle divine promesse se Gesù ha detto il regno della mia volontà verrà sulla terra e tu senti questa cosa oggi e dici ma signore mio ma dove sta sto regno della tua volontà sulla terra e qua più tempo passa più gli uomini fanno tutto il contrario della volontà tua e a volte pure qualcuno che dovrebbe essere fra i primi a fare la tua non è proprio così perfetto ma dove sta? allora qua ci stanno le parole di San Pietro che ci ho fatto un'ora santa recentemente sta tranquillo il signore non ritarda nella tempiera la sua promessa ma usa misericordia perché tutti abbiano modo di pentirsi ma promessa divina non c'è dubbio quindi chi siamo noi nel 2018 io sono uno dei tanti non sono nessuno che stiamo leggendo queste cose ci stiamo riflettendo ci stiamo meditando spero che ci stiamo provando a cominciarle a vivere boh siamo i primi come dire i primi pionieri un po' sgangherati non lo sappiamo d'accordo lo vedremo il regno della divina volontà sulla terra e che ne so io non è proprio la più palida idea d'accordo certamente è lecito pensare a una cosa cioè il regno della divina volontà verrà sulla terra certamente ma anzitutto il primo luogo dove andrà a regnare saranno i singoli cuori che accolgono questo dono e l'accolgono sul serio ci credono e lo mettono in pratica questo è sicuro per me il mio modestissimo parere allora Gesù prosegue dopo questa dichiarazione solenne e ciò che ho detto sarà la mia volontà sarà conosciuta e verrà a regnare sulla terra prosegue adesso teniamoci forti perché qui è uno dei passi belli proprio degli scritti travolgerò tutto per ottenere questo travolgerò tutto per ottenere questo Gesù sta dicendo farò un 48 dicono a Napoli non mani come farò travolgerò tutto per ottenere questo ma il tutto mi deve ritornare in quella parola Fiat e prosegue Fiat disse Dio Fiat deve dire l'uomo ma no a chiacchiere cioè dalla mattina alla sera dal primo respiro che fai la mattina al sonno che prendi nella notte tu dovrai imparare a viverlo nel Fiat quindi prima che dormi tu riesci al divino volere non riesci a prendere sonno Fiat signore oggi non mi stai facendo addormentare subito perché vuoi che offro al sacrificio di rigirarmi un pochino nel letto tranquillo ecco tranquillo oppure ma addormento subito faccio una bella dormita apro gli occhi Fiat signore grazie per la dormita che nel divino volere mi ha concesso di vivere sperando che il mio cuore abbia battuto per te e i miei sogni se siano uniti al tuo divino volere cioè sto dicendo le prime cose che mi vengono in mente ma è così cioè non ci deve essere neanche un palpito un secondo un pensiero certo questo è un cammino questo qui che sia fuori del divino volere dobbiamo imparare a non uscire nemmeno minimamente nemmeno instant nemmeno momentaneamente nemmeno nel piccolo da questo Fiat Fiat deve dire l'uomo in tutte le sue cose dice Gesù non avrà altro che l'eco del mio Fiat l'impronta del mio Fiat le opere del mio Fiat perché per poter dare io i beni che contiene la mia volontà e così completerò lo scopo completo di tutta la creazione cioè quando noi sapremo vivere in questo mondo noi avremo la vita più beata più felice più bella che si possa concepire immaginare sulla terra a prescindere dalle circostanze concrete in cui ci troviamo a vivere periodi di prosperità periodi di avversità periodi di tribolazione e di prova periodi di consolazione di tranquillità fa niente fa niente perché c'è un tempo per nascere c'è un tempo per morire c'è un tempo per mangiare c'è un tempo per dormire c'è un tempo per lavorare c'è un tempo per riposare cioè non importa quello che c'è importa che quello che c'è io lo riconosca come un eco del Fiat Supremo e commettare lo prenda basta d'accordo cioè guardate che questo provate a pensare io spero sempre dico signore mio per favore illumina le menti e i cuori provate a immaginare come può essere una vita così è una vita beata sempre felice perché guardate che tutte le nostre più grandi sofferenze derivano dalla nostra divina volontà faccio un esempio stupido tanto per farvi capire quasi quasi posso posso raccontare un fatto stupido che ho messo che vabbè lasciamo perdere le cose supponiamo che un giorno allora sicuramente questo esempio manderà in crisi un sacco di gente allora tu un giorno stai in macchina ok ti trovi in mezzo al traffico un ingorgo cioè è una cosa urgente devi arrivare al lavoro una cosa importante una visita non lo so ingorgo come mi relaziono dinanzi a questo fatto proviamo a a pensare come ci sarà capitato come ci siamo interfacciati cioè c'è una c'è una gamma variegata no? c'è chi si rassegna dice eh vabbè però sbrigiamoci speriamo facciamo presto comunque uno si agita un po' c'è chi comincia a e chi comincia a mandare accidenti a destra si comincia a sclerare come si dice in giro come si reagisce non si reagisce la divina volontà adesso mi sta chiedendo il sacrificio di sopportare la noia e il dolore l'inconveniente piccolo del traffico l'umiliazione del fare ritardo arriverò il datore di lavoro mi sgrida siccome mi sgrida per una cosa dove non c'entra la mia volontà non è che io sono stato a farmi gli affari miei e sono arrivato tardi no io sono uscito e sarei arrivato cinque minuti prima mi fa arrivare un quarto d'ora dopo così mi prendono un bello palliatone dicono a Napoli e cosa significa? significa che la divina volontà in quel momento vuole che tu ti prendi quel palliatone glielo offri perché questa piccola sofferenza la divina volontà ne ha bisogno per farci qualcosa che tu non sai sicuramente per santificare te ma anche molte altre cose che tu non sai essendo tu un suo figlio ok? basta finito così vale per tutte le cose ho fatto un esempio molto molto feriale come l'ingorgo perché noi cominciamo a pensare la divina volontà il fiat supremo quindi cominciamo a pensare a chi lo sa quali grosse cose la nostra vita è fatta di queste cose ed è lì che il fiat supremo sta continuamente io spero che il signore vi conceda la grande grazia di poterlo vedere posso fare un esempio sciocco altra mattina stavo per iniziare la meditazione stavo davanti al computer per sbaglio il cursore mi è andato su un programma di elaborazione di video non ci doveva andare perché io dovevo leggere la preghiera di preparazione alla meditazione e poi il testo della meditazione però ci è andato diciamo per sbaglio che era il video dell'omelia che avevo preparato la sera precedente e mi è andato proprio esattamente sull'ultima diapositiva che avevo dimenticato di di dargli il giusto titolo per cui veniva fuori il carattere predefinito con cui esce sta diapositiva che è brutto e che avrebbe come dire in qualche modo rovinato un po' la bellezza anche esteriore di un video insomma l'omelia è importante che sia pubblicata però insomma che esce fuori una cosa è brutta siccome non l'avevo ancora mandata in upload l'ho visto in un attimo ci ho messo la finale corretta l'ho riesportato e poi andato su ma io altrimenti finita la meditazione avrei preso quel video l'ho mandato in upload e sarei mandato in upload così cioè io sinceramente in quel momento dico ma guardate guardate la divina volontà ha fatto questo piccolo coso del tutto involontario del tutto imprevisto cioè a questo grado noi dobbiamo arrivare cioè questo è un fatto casuale purtroppo a me non mi capita sempre d'accordo magari ecco però cioè dico dico ma tu capisci che qui c'era in questa cosa sì in questa cosa quindi qui è roba grossa qui non roba grossa perché chi lo sa che succede roba grossa perché questa è una vita completamente divina ecco cioè dove roba ti senti proprio come dire avvolto protetto guidato in tutto proseguo e perciò mi sono accinto al lavoro di far conoscere gli effetti il valore i beni e le cose sublimi che contiene il mio volere per far conoscere come l'anima tracciando la stessa via del mio fiat la stessa però eh attenzione a queste parole cioè che qui a me dispiace che le mie povere parole umane sono limitate se no come l'anima tracciando la stessa via del mio fiat resterà talmente sublimata divinizzata santificata arricchita da far stupire cielo e terra nel vedere il portento del mio fiat operante nella creatura perché in virtù della mia volontà usciranno da me grazie nuove e da me mai uscite luce più sfolgorante portenti inauditi e non mai visti allora qua ci manca circa un quarto d'ora alla fine della puntata vogliamo fare che ripeto per un quarto d'ora di seguito queste parole così ce le mettiamo bene in mente senza commento cioè uno quando ascolta queste cose qui che cosa deve pensare almeno una volta le devo rileggere forse due rileggo tutto il periodo senza interruzioni causate dalla mia esuberanza perciò mi sono accinto al lavoro di far conoscere gli effetti il valore i beni e le cose sublimi che contiene il mio volere e far conoscere come l'anima tracciando la stessa via del mio fiat resterà talmente sublimata divinizzata santificata arricchita da far stupire cielo e terra nel vedere il portento del mio fiat operante nella creatura perché in virtù della mia volontà usciranno da me grazie nuove da me mai uscite luce più sfogorante portenti inauditi e non mai visti allora esempi se uno legge gli scritti di luisa piccarreta già alcune cose un po' particolari a mio modestissimo avviso le trova perché alcune come dire grazie particolari che luisa viveva alcune sono comune a pochissimi santi altre io personalmente non le ho mai sentite cioè perdonatemi tanto su uno legge gli scritti queste cose ce stanno non è che uno vuole metterle ogni tanto dice che gesù le appariva assumeva il latte materno dalla madonna poi se ne teneva un pochino in bocca e glielo versava in bocca a luisa piccarreta io questa cosa non ho letto tanti di libri di santi di esperienze mistiche santa margherita maria che si attaccava al sacro cuore quella vissuta da santa veronica giuliani dalla beata angela da foligno vissuta insomma delle cose abbastanza grosse ma io questa cosa non ho mai sentita adesso non voglio dire che sia che tutte le cose debbano andare così però sinceramente uno rimane un po' no che che è sta cosa qui se uno legge grazie a noi da me mi uscite luci più sfalcuranti portenti inauditi non mai visti Luisa piccarreta era la prima pioniera del regno del fia santificante questo è quello che dice Gesù ricordiamo i discorsi di due puntate fa la doppia vergine la vergine maria e la vergine Luisa questo accostamento insomma molto molto ardito fatto da da Gesù ma l'ha detto lui però capite allora c'è da stupirsi di questo quindi cioè Gesù qui sta parecchio come dire calcando sta parecchio esagerando sta parecchio come dire esaltando un qualche cosa di grosso 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 cioè che una persona non se ne rende conto insomma di di quello che sta che c'ha tra le mani insomma no abbozzo un piccolo commento l'anima tracciando la stessa via del mio fiat quindi cioè capite il fiat in interrotto vuol dire cioè la madonna rinunciò dal suo concepimento la sua umana volontà e non ha mai fatto la sua in vita mai 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 questo è alla fine fare il fiat mai allora l'anima resterà talmente sublimata cioè si trova a vivere in una condizione ed in uno stato che è sublime cioè chiamiamole non plus ultra meglio del così non si può agampare capito più bello del così non potrebbe essere ecco questo è ma se uno ci pensa è impossibile che non sia così perché la divina volontà è il ricettacolo di ogni felicità cioè la divina volontà è come dire secondo il nostro parlare perché poi quando si entra alla Santissima Trinità è tutto tanto complicato ma la divina volontà è il fondamento della felicità stessa delle tre persone divine capite questo è vero anche per noi esseri umani no cioè adesso facciamo un esempio terra terra no le piccole gioie umane quando è che noi siamo contenti umanamente parlando quando le cose vanno come voglio io quindi perché sono contento perché la mia volontà è fatta solo che la nostra volontà è un disastro totale che ti può dare al massimo qualche piccolo come dire qualche piccolo tocchettino a volte di qualche basso ma la volontà divina riconosce tutte quante le felicità possibili immaginabili di ogni genere di ogni tipo capito se tu stai unito a quello cioè non puoi non partecipare della felicità infinita che Dio è questo ripeto si trova scritto che ha chiarissimi caratteri ecco perché io oggi sto qui perché ho avuto anche la suerte dicono in Spagna la buona suerte di incontrare non poteva essere così perché insomma la Madonna ho sempre cercato di amarla tanto di incrociarmi con la divina volontà attraverso la Vergine Maria nel regno della divina volontà boom decorsa quindi senza sapere niente Fiat Supremo niente non sapevo però ci ho meditato per un mese di seguito e in alcuni passaggi questa cosa è chiarissima la Madonna stessa dice sta attenta guarda che se fai se mi ascolti se ti lasci condurre in questo mondo tu dirai la stessa cosa la felicità che ho vissuto io sulla terra è qualche cosa di inimmaginabile ma come la Madonna non era addolorata certo che era addolorata nessuno ha sofferto tanto quanto 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 la Madonna ma nessuno anche in questo mondo perdonatemi il termine ha goduto non certamente nel termine che danno i grossolani mortali a questo termine ma nel termine che gli si dà in paradiso quanto la Madonna anche in questa terra c'è questa polarità cioè in questa terra se tu incontri il divino volere aspettati due cose ricordatele bene grandissime felicità e grandissime sofferenze il pacchetto qui è unico non puoi fare come a Sky che dici prendo cinema e non prendo calcio no qui il pacchetto è unico se prendono tutte e due o tutto o niente in paradiso rimane solo la prima parte perché la croce lì è finita ecco lì è finita e rimane potenziata all'ennesimo livello la prima parte però questa prima parte comincia realmente qui per questo che la divina volontà si dice che riporta l'Eden perché nell'Eden i nostri progenitori erano felici certo non può esserci un ripristino dell'Eden come dire allo stato puro perché è perché purtroppo il peccato nel mondo c'è entrato e non sarà completamente distrutto d'accordo quindi se il peccato continua a starci è divina volontà che ci sia che cosa è che distrugge il peccato cioè gli uomini peccano che cosa ci ha insegnato Gesù che ci insegna la quaresima allora il peccato produce la morte no facciamo finta guardate un esempio il peccato produce rifiuti allora si ci vogliono le discariche dove quei rifiuti vengono inceneriti qual è la distruzione del peccato dove viene distrutto il peccato sulla croce sulla croce non ci stanno altri santi non ci stanno altri mezzi il peccato e il male che produce si distrugge sulla croce quindi è chiaro che la divina volontà adesso vuole che i suoi figli soffrono e soffrono tanto non perché non vuole dargli fin da qui la pienezza della felicità perché se fosse possibile ce la darebbe subito ma perché è indispensabile perché qui purtroppo ancora sulla terra c'è stan sacco di porcheria e qualcuno la deve distruggere e la distruggono le anime generose che abbracciano la croce non solo per sé ma anche per il bene di tutti se no sarebbe veramente il ripristino dell'Eden è proprio allo stato puro c'è il ripristino dell'Eden perché la felicità vera c'è e perché gradualmente lo vedremo in altri scritti bellissimi cioè le passioni nostre saranno tutte quante dominate tutte non esiste che io agisco secondo passione e le passioni sappiamo qui rimando alle catechesi che ho fatto in passato sui vizi capitali per esempio dietro ogni vizio c'è una passione le undici passioni di Aristotele evidenti in alcune cose la superbia è un vizio che è alimentato da una passione che si chiama desiderio desiderio disordinato però smodato il desiderio è stato fatto essere stato donato dal Signore perché fosse applicato a oggetti in se stessi desiderabili ma la superbia è il desiderio della propria eccellenza è il desiderio della propria indipendenza e autonomia cioè vuol dire che il mio desiderio che di per sé non è né buono né cattivo dentro di me per il disordine che c'è io lo applico a io voglio essere numero uno a io voglio fare a meno di tutti e tutti devono stare ai miei piedi questa è la superbia quindi è un desiderio disordinato quando nella divina volontà tutto quanto viene rimesso nell'ordine è chiaro che le passioni non possono agire in maniera disordinata che cosa c'è però col desiderio desidero il bene del prossimo desidero l'unione con Dio desidero dare gloria alla Madonna desidero aiutare il prossimo questo desidero soprattutto desidero quello che Dio vuole basta non è tanto difficile capire queste cose no? quindi siamo stati soltanto a sublimata accipic qua ci mancano 5 minuti l'abbiamo manco finito comunque sublimata divinizzata santificata da far stupire cielo e terra nel vedere il portento del mio Fiat operante nella creatura un portento perché in virtù della mia volontà finalmente accolto e operante senza remore ripeto usciranno da me grazie nuove da me è mai uscire è lecito aspettarsene sì d'accordo non le dobbiamo esigere né desiderarle né chiederle ma sulla base di quello che Gesù ha detto è lecito aspettarsene se il Signore ce le darà benvenute luce più sforgolante portenti inaudite e non mai visti è lecito aspettarsene ed è lecito sognare d'accordo rimane sempre illecito desiderare chiedere o peggio ancora esigere queste cose perché Dio non è tenuto a darci niente di tutto questo proseguo la lettura perché stiamo addirittura d'arrivo dobbiamo andare verso il termine io faccio come un maestro quando insegna al suo discepolo le scienze che lui conosce il quale si insegna al suo discepolo è perché vuole fare un altro maestro come se stesso anche qui Vangelo di San Giovanni chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi perché io vado al padre l'ha detto Gesù non negli scritti di Luisa nel Vangelo qui ne fa ecco un discepolo non è più del suo maestro ma ognuno ben preparato sarà più del suo maestro ecco quello che ha detto adesso se insegna al suo discepolo è perché vuole farne un altro maestro come se stesso così faccio io se la mia lezione sublime fu la mia prima parola fiat cioè se Dio la prima cosa che ha detto fuori di sé è stato fiat per dare origine al creato qual è l'ultima? la mia preghiera insegnata fu il fiat come in cielo così in terra fiat volontà stua sicur di in cielo e in terra ora essendo passato a te a darti più diffuse attenzione più chiare e più sublime le lezioni sulla mia volontà attenzione attenzione ai termini cosa Gesù più diffuse più chiare e più sublime non sono cose nuove quindi sono cose che già sono contenute però più diffuse quindi più particolareggiate più chiare quindi una focalizzazione più puntuale di certi concetti e più sublimi nel senso che te ne dispiega anche i portenti la bellezza e le grazie e i prodigi che scatena tra virgolette insomma la vita ne devi involere quindi essendo passato a te a darti più diffuse più chiare più sublime le lezioni sulle mie volontà è che voglio che il discepolo acquisti non solo la scienza di essa attenzione ma che acquisti le mie proprietà e i miei beni attenzione che è Dio che sta parlando le mie gioie e la mia stessa felicità le mie proprietà i miei beni le mie gioie e la mia stessa felicità se c'è qualcuno che queste cose non gli interessano non le vuole liberissimo cioè io penso che qualunque persona insomma normale credente che sente queste cose qua dice ma è tutto vero o no scherzi a parte o realtà e questo aspetta a noi capite orizzontarci e cioè io dico e concludo ci stanno altre due righe così poi mettiamo punto perciò si attenta e fedele ai miei insegnamenti e non spostarti mai dalla mia volontà bellissima questa immagine che meriterebbe commento ma dobbiamo andare verso la fine no allora io dico dico soltanto questo qui cioè uno è liberissimo di non crederci a queste cose qua ripeto la fede divina e cattolica basta e avanza per raggiungere la salvezza e per non andare all'inferno e per andare in paradiso ci ho premesso però quando io conobbi queste cose proprio il contenuto di queste bellissime parole cioè non può essere nient'altro che un beneficio immenso per ogni anima che ti accoglie per sé e fuori di sé cioè qui dentro non c'è nessuna controindicazione non c'è nessuna possibilità di andare fuori lontano dal seminato di allontanarsi anche di una virgola dall'amore alla chiesa dall'ottrina alla chiesa dalla fedeltà alla chiesa dai pastori da tutto perché fiat volontas tua accorto cioè capite fiat volontas tua cioè la chiesa di cristo è una d'accordo fatta in un certo modo organizzata in un certo modo fondata dal nostro signore gesù cristo quindi noi abbiamo avuto la grazia di poterla conoscere di poter conoscere il meglio d'accordo a differenza dei nostri poveri fratelli che questa grazia ce l'hanno avuto quindi ricordiamo sempre cioè capite no specialmente di questi tempi dove uno ogni tanto rischia un attimo di cioè se tu stai nel fiat supremo è evidentissimo che la prima cosa certa d'accordo è fedeltà assoluta amore alla chiesa obbedienza alla chiesa in tutto e per tutto capito quindi non c'è non è proprio possibile deviare minimamente se uno vive il fiat certo se uno vive la caricatura del fiat o se si aggiusta tutte quante queste cose come ci pare o addirittura le travisa in alcuni passaggi come avremo modo di vedere è chiaro che tutto è possibile ma in se stessa questa cosa non può che produrre beni su beni e quindi io evidentemente nel rispetto di chi la pensa diversamente io ritengo molto attendibile cioè anche prescindendo dall'atto di fede nell'origine soprannaturale di queste cose una frase del tipo che chi vive nel fiat acquista le proprietà i beni le gioie e la felicità di Dio stesso perché la divina volontà e la unione con essa è il fondamento di tutto questo anche senza la rivelazione di Luisa quindi ecco perché c'è veramente da essere felici e grati al Signore per tutto quello che ci sta facendo conoscere spero anche amare e spero ancora di più cominciare almeno piano piano ma anche con grande impegno e convinzione a vivere appuntamento gentilissimi ascoltatori alla prossima settimana la mia benedizione ave maria a vivere a vivere a vivere a vivere Grazie a tutti